Nell'ultima lezione abbiamo visto come Vasari appunto ci racconta che Masaccio arriva a Firenze e si associa con Masolino proprio quando Masolino sta per iniziare uno dei suoi nomi e non riesco a partire. Allora nell'ultima lezione ci siamo lasciati con questa immagine, siamo nel 1424, Masaccio secondo le parole di Vasari è appena arrivato a Firenze e si sta associando con Masolino il quale sta iniziando l'esecuzione di una commissione molto importante che è quella della realizzazione a fresco delle storie di San Pietro nella cappella Brancacci al Carmine, in Santa Maria del Carmine, inoltrarno a Firenze. Quindi una commissione di ampio respiro e i due artisti cominciano a lavorare a questa commissione dividendosi proprio le parti diciamo e questo ci dice appunto che già lavoravano praticamente da pari a pari anche se la critica in passato ha voluto attribuire a Masolino un ruolo di maestro rispetto a Masaccio, un ruolo di maestro che non c'è mai stato come vedremo. Il confronto fra le opere di questo complesso appunto interessante, complesso di affreschi è abbastanza impietoso per Masolino, ci mostra qualcosa di importante, cioè ci mostra un Masaccio giovanissimo che già è un rivoluzionario, sa esattamente quello che vuole, un Masolino artista già maturo che però rimane colpito dalla grandezza di Masaccio e cerca in qualche modo di imitarlo. Roberto Longhi in questo senso dice delle cose essenziali da questo punto di vista, cioè ci dice che proprio da questo momento di incontro ebbe origine la straordinaria avventura masacesca di Masolino durata un quinquennio all'incirca, mentre l'avventura inversa di Masaccio non ebbe logo mai, cioè Masolino cerca di imitare Masaccio, Masaccio non cercherà mai di imitare Masolino, ma perché? Non è una forma di... non è che Masaccio si sente superiore, semplicemente Masaccio è già inserito in un mondo completamente nuovo, quindi è Masolino che cerca di rimettersi in pari, potremmo dire in qualche modo, anche qui Roberto Longhi fa due similitudini importanti, intanto ci dice di Masaccio che se mai vi fu artista ad uscire già armato dal cervello della pittura, questi fu Masaccio, cioè ci sta dicendo Masaccio, 16enne, 20enne, 22enne, 24enne, è già un artista completo e sa esattamente quello che vuole, ma poi soprattutto con questa similitudine abbastanza gustosa ci racconta anche a non conoscere il temperamento di Masolino è corrente constatare che un uomo di 40 anni si arrischia spesso in una short o in una tuta come in una qualunque nuova moda, combinandola, ahimè, col viso vecchio, quanto al giovane che ha inteso trattarsi di un modo e non di una moda, egli vive in esso e non sa più nulla del passato e meno che mai del presente recente. Il presente recente in questo caso è proprio Masolino, cioè Masolino cerca di indossare in qualche modo i modi di Masaccio come in una moda e quindi quello che succede è l'equivalente di quello che accade alle persone di una certa età che si vogliono vestire da giovani, si vogliono comportare da giovani, mentre invece Masaccio non sta seguendo una moda, sta seguendo un modo, quindi lui nemmeno si rende conto di quello che sta facendo, non vede il passato, non vede soprattutto il recente passato che è Masolino. Grandissimo rispetto per Masolino, ma nel confronto per esempio fra queste due scene il peccato originale e la cacciata dal paradiso terrestre che apparentemente non c'entrano con le storie di San Pietro, ma vedremo invece che hanno una loro rilevanza perché il peccato originale allude poi al sacrificio di Cristo e il sacrificio di Cristo dà inizio alla Chiesa e Pietro è come primo papa un simbolo della Chiesa, vedete che proprio si vedono la distanza enorme fra i due artisti. Masolino è un artista che si concentra evidentemente sulla delicatezza cromatica, sull'eleganza delle pose, sull'amore per i dettagli, tutto quello appunto che abbiamo già detto del gotico internazionale con una simbologia molto allusiva, potremmo dire che dove Masolino sussurra le sue idee Masaccio le grida, dove è che si vedono le caratteristiche più gustose in un affresco di questo tipo, proprio in questi gesti sussurrati, per esempio guardate il gesto della mano, c'è evidentemente Adamo, Eva insinuante che sta cercando di convincere Adamo, Adamo che cerca di fare resistenza con questo gesto della mano, una resistenza, pochissima resistenza sappiamo, sa anche lui che sta per cedere e la mano invece di Eva va ad abbracciare l'albero e insieme all'albero il demonio in forma di serpente con testa di donna, testa di donna bionda che in qualche modo replica la testa di Eva stessa e quindi c'è questo collegamento fra Eva e il serpente, fra la donna e il demonio. In tutto questo queste figure sono assolutamente inconsistenti, soprattutto nel senso della loro presenza nello spazio, sembrano quasi fluttuare, i piedi non sono saldamente ancorati al terreno, si tratta di elementi di grandissima delicatezza, di grandissima dolcezza, guardate per esempio il volto di Adamo ma che non hanno quella forza espressiva che invece sarà caratteristica proprio di Masaccio che crea delle figure che potremmo definire brutte, nel senso che non cede in nessun modo all'idealizzazione, ma sono delle figure perfettamente piantate in terra, basta vedere le ombre, sono figure che fanno della loro espressività, per esempio questo coprirsi il volto, questo spalancare la bocca in un grido di dolore, una forma di realismo sintetico completamente nuovo, realismo che si vede anche nei dettagli, per esempio guardiamo questa porta che è la porta della Gerusalemme celeste, del giardino dell'Eden da cui i due progenitori vengono cacciati, che potrebbe essere tranquillamente la porta di una qualsiasi città dell'epoca di Masaccio, e poi ci sono delle riprese evidentemente della classicità abbastanza evidenti, per esempio il gesto di Eva che è evidentemente ripreso dalle veneri pudiche ellenistiche ma che in questo momento è completamente trasfigurato, cambia, diventa qualcosa di completamente nuovo, e una serie di simboli, per esempio la secchezza della natura fuori dall'Eden, questa scabrosità in qualche modo della natura, questa ricerca di qualcosa di aspro di sintetico, e poi l'angelo che vedete sta indicando qualcosa, e vi dico io, indica semplicemente il pannello successivo, l'affresco che sta a fianco a questo, dove al centro appunto c'è Gesù Cristo che è l'unica via di salvezza, e quindi si salta diciamo da un affresco all'altro per dire cose diverse. Ecco, allora, passando a vedere le caratteristiche appunto di differenza di questi due artisti, noi abbiamo già visto qui appena buzzate le differenze. Prendiamo per esempio questo che è un affresco eccezionale, che in passato è stato attribuito alle mani di entrambi i maestri contemporaneamente, cioè cosa si pensava? Che essendo Masaccio, allievo di Masolino, ripeto, non lo è mai stato, ma evidentemente a partire da Cavalcaselle, quindi insomma si sta parlando di una critica molto attardata da questo punto di vista, molto vecchia, ora che siamo nel 2020, cosa si pensava? Si pensava che Masolino, più vecchio di 18 anni, dovesse per forza essere il maestro. Quindi in questo affresco le figure in primo piano sono attribuite giustamente a Masolino, a Masaccio si lasciava lo sfondo architettonico di questi palazzi. Poi vedremo che in realtà così non è. Lo sfondo architettonico ha un fare molto realistico, semplicemente perché Masolino cerca appunto di imitare Masaccio e cerca di imitarlo anche nelle figure di questa scena, figure che però nonostante gli sforzi di Masaccio restano comunque teatrali e restano comunque inconsistenti. Vedete che sembra che non tocchino terra, le ombre non si capisce bene dove vengano, cioè la fonte di luce non è chiaramente individuata, le pose sono cose ancora tradizionali, molto sforzate, molto teatrali e poi soprattutto per capire insomma la differenza fra i due artisti, guardate le due figure centrali, diciamo nel punto in cui si sviluppa il punto di fuca, diciamo il centro dell'immagine con queste due specie di damerini, no? Che ancora Roberto Longhi diceva, definiva due indicibili giovanotti stoffati in mazzocchio da parerzagome per il sarto di moda a Firenze nella stagione 24-25, cioè due specie di manichini, manichini che tra l'altro sembrano fluttuare nell'aria, anche questi non poggiano i piedi per terra e questa grande ricchezza delle stoffe, dei dettagli, sembra legarsi più, non lo so, alle fra i Richard del Duc du Berri, oppure insomma a tutta la tradizione tardogotica, borgognona, cioè a tutta quella tradizione di ricchezza, ma di ricchezza di superficie, di ricchezza lenticolare che niente avrà a che fare invece col rinascimento. Guardando appunto lo sfondo architettonico, ecco qui troviamo uno sfondo architettonico assolutamente realistico, ma con l'inserto di una serie di elementi lenticolari, di elementi di gusto che in qualche modo arricchiscono la scena, quindi il lenzuolo, la gabbietta per gli uccelli, l'animale è probabilmente una scimmia, una scimmietta che sta camminando sul ballatoio, i bastoni per le impannate, cioè tutte cose, i vasi di fiori, cioè tutte cose che non sono necessarie, diciamo, non sono indispensabili, non hanno niente di sintetico per la resa, diciamo, delle figure. Ecco, cosa fa Masaccio? Masaccio fa qualcosa di completamente diverso, in questo caso noi abbiamo la Ceri Berry, ma scena di San Pietro che risana gli storpi con la propria ombra, qui anche il fondo architettonico, come vedete da un lato questo palazzo col bugnato dove si vedono le bugne proprio una per una, dall'altra parte quel bellissimo dettaglio con la colonna corinzia, ma non c'è niente di eccessivo, non si indulge nei dettagli, nei particolari, quello che interessa è proprio invece la descrizione della verità, in questo caso abbiamo questi due storpi, per esempio, che sono indagati proprio come due esseri umani nella loro disperazione, nel loro dolore, per esempio in questo caso abbiamo la scena della morte di Anania, Anania muore perché doveva, avrebbe dovuto distribuire denaro ai poveri, invece trattiene per sé una parte del denaro, Dio lo punisce, Anania è sdraiato, morto al centro, diciamo in basso dell'immagine, ma il centro vero dell'immagine è questa donna del popolo così bella, è così severa nella sua sobrietà, è così dignitosa col bambino in braccio che è appena coperto da questo straccetto nel quale evidentemente è cresciuto dentro, per cui anche qui la dignità della povertà. Figure che sono figure vere, figure nello spazio, ecco questo forse è diciamo il quadro, la scena più celebrata ai suoi tempi di questo complesso, c'è San Pietro che sta battezzando i neofiti, abbiamo già parlato del brivido di freddo che scorre lungo le membra di quest'uomo, uomo che però è una delle varie tipologie umane, se voi guardate tutto ciò che sta nello sfondo vedete che ci sono un'infinità di tipologie umane diverse, tipologie diciamo personaggi più belli, personaggi più magri, più grassi, più muscolosi, più anziani, personaggi stupiti, personaggi allegri perché stanno per avere il battesimo, diciamo in questo senso questa grande variabilità, questa grande volontà di variabilità delle pose dei personaggi è quello che abbiamo già visto essere tipico anche in Donatello, questa ricerca costante di variabilità psicologica, questo intento di ricerca psicologica nei volti e nei gesti dei personaggi uniti in questo caso vedete soprattutto alla perfezione anatomica di questo personaggio inginocchiato con questi capelli bagnati che gli scendono lungo il volto e questa sorta appunto di brivido che sembra scorrere lungo la schiena di questo personaggio perfettamente tornito dalla luce. Ecco vedete per concludere poi nella prossima lezione concluderemo proprio la cappella Brancacci, però dov'è la differenza tra i due artisti che si nota immediatamente? Non è che Masaccio diciamo abbandona la delicatezza per esempio del chiaroscuro, la ricerca cromatica, semplicemente non fa dello sfumato, del chiaroscuro, del dettaglio, la parte fondamentale, preponderante, principale del suo lavoro. La parte fondamentale del suo lavoro sarà come era stato tutto sommato per Giotto, in questo senso il collegamento di Berenson è perfettamente funzionante, la parte preponderante del suo lavoro sarà proprio la ricerca di verità, una verità che è una verità psicologica, una verità spaziale, una verità narrativa, quindi esattamente come in Giotto una verità giocata da tanti punti di vista diversi. Vedete quindi, se torniamo un attimo indietro, che le figure che vengono rappresentate e anche le scenografie degli sfondi che vengono rappresentate sono scenografie soprattutto vere, il che non vuol dire che debbano essere povere, ma sicuramente non si indulge nella ricerca del dettaglio, del ricamo, del vaso di fiori, della stoffa, del cappello, no, quello che si cerca è una solidità delle figure che hanno un loro peso nello spazio, una loro presenza nello spazio, un corpo, un sangue, una loro emotività che però gli dà realtà appunto nello spazio. Queste sono proprio le caratteristiche masacesche. Vedremo poi che queste caratteristiche si sviluppano proprio anche all'interno di una griglia, diciamo così, che riesce a compattare perfettamente le figure. Una griglia che è quello che mancava probabilmente a Giotto, che è data dalla innovazione per esempio della prospettiva centrale, che in qualche modo riesce a combinare, a costruire un ambiente in cui queste figure si trovino ad essere ancora più, sempre più stabili e quindi delle figurazioni assolutamente equilibrate.